Questa cosa qua, vi chiederei a Marco Cassinagli, che vedo che sta prendendo appunti di venire a raccontarci quello che... Sì, buongiorno a tutti. Io parlo molto poco, ripetisco che almeno non essere qui per la seconda volta, dopo essere venuti appunto l'anno scorso e aver partecipato al primo incontro di Innova, l'argomento delle start-up che oggi si lega bene alle esperienze che abbiamo avuto lo scorso anno, nel momento in cui abbiamo inaugurato una rotonda realizzata da Daniel Vibeskind, opera realizzata appunto sulla pedemontana Recessosuolo. L'idea di un architetto, come disse Renzo Piano, non è mai solo formale, deve essere al tempo stesso sociale, scientifica e poetica. Pertanto lascerei la parola a Daniel Vibeskind e a tutta la progettazione e realizzazione di quest'opera, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 tutti i pazienti qui della provincia e della regione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.